Qual è il contributo che la comunità valdese può dare alla città e quali sono le sfide che la città invece pone alla chiesa valdese oggi? Il contributo secondo me è un'antica educazione alla democrazia al rispetto dell'altro, alla scoperta dell'altro come importante per te. Questo mi sembra uno dei contenuti storici della chiesa valdese che conta molto oggi e che può essere anche un contributo oggi alla società civile, il fatto di prendere sul serio tutte le diversità e cercare di capire, di dialogare, di non dare nulla per scontato. La sfida che la città ci pone è quella di una disintegrazione anche in fondo di molte realtà e di molti contenuti, di sapersi porre in dialogo con cose molto diverse. I valdese hanno una grande fama antica ma che devono oggi guadagnarsi il senso della loro presenza.